Ho deciso di starmene bello quieto quieto, buono buono oggi, però un signore, un certo Samuel Eto'o è venuto l'idea intelligente di lasciare il calcio giocato a 38 anni, ed eccomi qui, Samuel Eto'o, un vincente, un professionista straordinario, non ne fanno più, non ne fanno più come lui, uno che è stato capace di vincere la Champions per ben tre volte, per ben tre volte. Liga Spagnola, Serie A, tanti ma tanti di quei trofei individuali, per ben quattro volte il pallone d'oro africano, record condiviso insieme a Yaya Toure, giocatore straordinario, dalle doti tecniche assolute, mamma 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 mia, già mi sale la nostalgia. Per chi si fosse perso questo giocatore, o per chi non ne ricordassi i gol, non credo molto difficile, andiamo a vedere quelli che sono stati all'Inter, i suoi dieci migliori gol. E devo dire grazie a Mr. Pandoro, perché gli ho rubacchiato la clip, in descrizione trovate quella originale, ovviamente. Ho messo una cam che fa leggermente cagare, ma proprio leggermente, colore giallo, mamma mia, aspetta, ma lasciamo stare la cam. Parliamo di questo signore con la nove sulle spalle, con la nove sulle spalle, quando la nove ce l'aveva gente come un certo Sam e Toh. Che giocatore ragazzi miei, che giocatore. Inter Roma, guardate come si girava, impressionante, velocità d'esecuzione incredibile. Mi sale, già mi sta salendo la nostalgia, ragazzi, ragazzi, fermiamo tutto, fermiamo tutto. Hop, a destra, hop, dribbling e sotto l'ingrocio, dribbling e sotto l'ingrocio, dribbling e sotto l'ingrocio. Mamma mia, mamma mia. Pazzesco, pazzesco. Mamma mia, mamma mia, qui goffo il controllo, ma guardate come va via due, guardate come va via due. Un rapace d'aria, veloce, leggero. Una gazzella, una gazzella, una gazzella. Mamma mia che gol, mamma mia. Troveretto, doppio controllo dietro, era di rigore, grande giocata, è tooooooooh. Mamma mia, che giocatore. Mostruoso, mostruoso. Che tocco, che tocco. Mamma come va via, mamma come va via, mamma come va via, mamma come va via. Cioè, guarda, guardiamo qui, mili. Poi vabbè, se guardo tutta la squadra che c'è dietro, lasciamo stare. Mamma, mamma, mamma mia, guardate un po', guardate un po'. Con che maestria se la fa scivolare sul destro e la mette là. Con che maestria? Con che maestria? Con quale maestria? Guardate un po', guardate un po'. Cioè, la palla da fermo. La palla da fermo, puoi dire. Guardate come la impatta e come la butta dentro. Questo è un po' pazzesco, eh. Questo è un po' pazzesco, eh. Diciamolo pure. Guardate qua, guardate qua, guardate qua. Uno, due, tacco. Mamma che gol, mamma che gol. Mamma, 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 mamma che gol. Cioè, è pazzesco, eh. Era una gazzella, è una gazzella, è una gazzella, è una gazzella, una gazzella. Ehi, tì, un extraterrestre. Impressionante, impressionante. Cioè, ma qua... Oh, è soltanza storica, storica. Le bustarelle, le bustarelle. È un giocatore che, ragazzi, guarda qua, guarda qua, come va a sradicare il pallone. Cioè, ma, cioè, guardate come si muove con che... Come il leggiatro, guardate come il leggiatro. Ma guardate come le... Cioè, gioco di gambe, impressionante. Gioco di gambe, una velocità. In quelle gambe, guarda, una velocità. Impressionante. Io sto lì e dico, ma, beh, di questi non ne fanno... Di questi qua non ne fanno più, eh. Di questi qua non ne fanno più, eh. Non ne fanno più, ragazzi. Un maestro. Un maestro. Questi sono dieci gol, uno più bello dell'altro. E quanti ne mancano? E quanti ne mancano? Ma, godiamoci questi. Godiamoci questi. Ragazzi, fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate di questo giocatore. Me lo fate sapere un po' sotto. Me lo dite gentilmente. Me lo dite? Ditemelo pure. Commentate, likeate. Un grande abbraccio da Neschio. Samuel e to the end. Un grande abbraccio. Samuel, Re Leone. Unico. Ciao. 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 Grazie.